Noi ci accorgiamo di non avere un sufficiente supporto da parte della politica e da parte dell'organizzazione dello Stato. In pratica il mondo sta andando con una velocità diversa e allora quello che noi pensiamo oggi possa essere un vincolo deve diventare un'opportunità. Allora una struttura diversa da quella attuale in cui le esigenze del mondo imprenditoriale siano maggiormente percepite. E poi possano essere evidentemente tolti quei lacci e laccioli che oggi fermano l'impresa.